Bella ragazzi, sono KbGoku e dato che vi annoia questa mia dicitura, adesso inizierò, no scherzo, vi annoia, la gente ride, dice che vi faccio ridere quando dico questa cosa, quindi adesso inizierò a fare no, io tipo, bella ragazzi, sono KbGoku e oggi faremo un tutti contro tutti con il mio secondo account, come vedete faccio ridere, ho 0 punti prestigio perché, non lo so perché, tecnicamente scusa, su MW2 ho giocato, infatti me lo segna però non so perché non mi dà, non mi dà i punti prestigio perché, non lo so, vabbè, insomma non mi dà i punti prestigio, se esce Dom potremmo fare una bella partita tutti contro tutti con lo spas che fa schifo in questo gioco però, insomma, bisogna pur divertirsi e dato che questo profilo l'ho fatto per divertirmi, mentre l'altro, quello diciamo un po' più serio, quello dove si gioca bene, qui si gioca a caso, lo scopo di questo profilo è solo divertirmi, quindi se la partita finirà da schifo non mi interessa, l'importante è play for fun e andiamo a scassare tutti con lo spas, è deciso, questa è una dichiarazione di guerra ufficiale nei confronti del resto del mondo che io sto per fare, sto per uccidere il mondo se vi interessa, non so se voi avete mai visto il mondo morire però io andrà, andrà, io andrà, io andrà a fare, andrò a fare una stage e adesso ve lo dimostrerò usando lo spas, oppure potrei anche usare il barrett però non lo so, non credo che il barrett mi si addica in questa situazione, preferirei andare in giro con lo spas, intanto morirò subito, l'obiettivo di questa partita è riuscire a mantenere un rapporto uccisioni morti positivo e già siamo in negativo soprattutto perché questo l'ho preso in pieno come avete visto, ancora una volta l'ho preso in pieno ma non mi da l'uccisione come avete ben notato sicuramente, questo non perché sono stupido ma perché mi sa che c'è del lag, è anche bello selvaggio questo lag devo dire, vediamo se riusciamo, ah poi ho ricompense da, dovevo mettere ricompense un altro tipo di ricompense, adesso c'ho, oh attenzione, attenzione ragazzi, se la viaggia con l'UAB KB Goku, no come salta l'host, cioè sono 5 a 2 con uno spas ragazzi, 5 a 2 con uno spas non si era mai visto, cioè penso che nessuna persona al mondo sia riuscita mai a fare 5 uccisioni di fila con uno spas e non ci stavo riuscendo, chiama l'UAB? e infatti sono morto, vabbè, ma fa niente, noi siamo qui anche per morire, non siamo qui, scherzavo, non siamo qui per morire, siamo qui per ammazzare tutti, e vai, e vieni qui che ti ammazzo, e vieni qui che adesso crepi pure tu, che sei dai, ti ho preso in pieno, oh oh, si salva, e va avanti, no, questa, questa non me la dovevi fare, ho preso da più o meno mezzo metro, oh oh, quante ne sa KB Goku ragazzi, con lo spas, con lo spas, attenzione, la gente inizia ad avere paura di me, attenzione, come c'è coltello, ah non c'ho la modalità tattica, la devo cambiare, anzi la cambio subito, ecco perché, infatti dicevo, ma mi si muove dentro il personaggio, ma forca vacca sarò scemo, eh, mo sono impazzito, mo non riesco a tenere dentro, guardate che camper ragazzi, guardate che camper c'è in questo gioco, c'è un livello di camperaggio, oh, mamma mia, tanta roba ragazzi, tanta roba, no, mi sono fatto ammazzare, ma questa occasione non ce la toglie nessuno, non ce la toglie nessuno, vediamo se riusciamo a ucciderne almeno uno, se non mi ammazzo da solo magari, oh, doppia, è tanta roba per KB Goku, adesso vado a fare una strage su, vabbè, cioè ci manca pure questo, no, allora dagli anche una mano, e continua la sua strage con lo spazio, no, sono appena ucciso, vabbè, promosso, eh, allora sei un culattone però, tiro basso, sei un culattone, nel senso che sei molto fortunato, non vale, con l'MP7 non bisognerebbe giocare in tutti contro tutto, perché è veramente overpower, qua, mamma mia, headshot per lui, headshot, allora andiamo a spaccare qualcun altro, perché qua mi sa che non trovo nessuno, dove, dove siete, eccolo, no, 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 ti avevo preso, oh, ti avevo preso in pieno anche, vabbè, eh, ho avviene micro guidato, oh, però, c'è, Gold Drake, c'è, mi fai pena, eh, sì, fammi nascere con qualcun altro a fianco, no, Gold Drake mi fai veramente pena, da quanto, da quanto, da quanto frega tutti con quel cazzo, cos'è, era un IMS, ah, ok, mi è saltato in aria il cervello, ragazzi, IMS si chiama, distruggi i cervelli, eh, vabbè, grazie, eh, se ho fai gli atti, ah, sono scemo, sono veramente stupido, ok, porca, no, stavo, stavo, stavo in vantaggio, mi sono fatto fregare, come un ciupa, due volte, eh, e allora, Shanks, vuoi le botte, pensi di essere il più forte, ma io ti farò vedere quale sarà la tua sorte, non ti faccio ridere, ma c'è un elicottero, che non è il mio, sempre così, via, stai dentro, no, 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 ma no, l'avevo tirata fuori l'acciucante, almeno così mi era sembrato, all'inizio, però, oh, stealth, vediamo se fa la tripla, l'ho tirato schifosamente male, ragazzi, però ho detto lo tiro veloce prima te, e ce ne ricordano che vola, è grande, è grande KB Goku, ragazzi, prima partita di Mv3 in live, con uno spasso, tra l'altro, ho tirato malissimo questo sette e sono riuscito a fare tripla, non mi chiedete veramente come ho fatto, il risultato è un, vabbè, un 30-20, cioè, pensavo di finire in negativo, invece siamo riusciti a fare una partita decente con lo spasso, quindi, mamma, ne scasso un'altra, vi metto pure quella, però la facciamo in un altro episodio live, che sto per iniziare adesso, e se non lo inizio adesso mi sparo subito in testa, quindi ci vediamo tra 5 minuti, bella ragazzi!